salve a tutti sono Sara oggi insieme vedremo come rendere divertente oltre che funzionale una pratica igienica altamente raccomandata il lavaggio delle mani apriamo l'acqua prendiamo il sapone mettiamo in un po e cominciamo a strofinare le mani aggiungiamo un goccino d'acqua e poi la chiudiamo per evitare di sprecare un bene prezioso massaggiamo sul dorso sul palmo intorno al polso e poi quando sulle mani comincia a formarsi una schiuma soffice bianca e morbida si prova a fare la magia vediamo serve ancora un po di schiuma e poi soffiando dentro la mano abbiamo ottenuto una bolla proviamo a farne un'altra facciamo vedere bene come bisogna soffiare delicatamente lentamente lentamente per ottenere una bolla di sapone nelle proprie mani guardate eh proviamo un'ultima volta avviciniamo la bocca alle mani soffiamo soffiamo e sul palmo c'è una polla spero che questo semplice video possa essere per voi tutti uno spunto che regali un sorriso grazie 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 a tutti.